Nello Scavo e Lorenzo Cremonesi, due grandi reporter di guerra, ricevono il premio Montale Fuori di Casa 2023 per la sezione giornalismo. L'inviato speciale di avvenire ha sottolineato come anche nei contesti più difficili ed avversi si debba fare di tutto per raccontare la verità dei fatti. Ma in generale in questi 15 mesi di guerra, ormai siamo quasi a un anno e mezzo di guerra, circa 500 giorni, la grande difficoltà è poter seguire tutta la vasta area del conflitto, poter documentare le ricadute sui civili, sulla popolazione che vive in una situazione di trauma costante e purtroppo di abitudine alla guerra. La nostra responsabilità è trovare le parole giuste tante volte per non fare pornografia del dolore e allo stesso tempo per provare anche a raccontare il più in profondità possibile. Ci sono anche dei rischi che naturalmente si corrono, però questa guerra è davvero inimmaginabile quello che sta accadendo se pensiamo alle inondazioni causate dalla frattura della diga di Kherson. Nessuno di noi si era preparato a raccontare quello che sta capitando. Stare in prima linea nel senso letterale del termine comporta grandi rischi e altrettante responsabilità. Lorenzo Cremonesi ha raccontato nel suo ultimo libro 40 anni di carriera di un mestiere difficile e straordinario. Ho appena scritto un libro proprio su 40 anni e passa di questo mestiere, si chiama Guerra Infinita. La guerra è un evento eccezionale dove gli uomini sono messi a nudo, dove davvero è la vita e la morte, i risparmi di una vita, gli amori che lasci, una famiglia divisa, il tuo paese che si sfascia, i tuoi risparmi di tutto il tuo lavoro che rischiano di essere perduti. E quindi gli uomini sono nudi. Quindi da un punto di vista giornalistico è terribile e allo stesso tempo molto interessante cercare di capire, raccontare le guerre nel loro contesto, che hanno sempre caratterizzato la storia dell'uomo, dell'umanità, dalla sua nascita, ma anche i drammi degli individui, che sono gravissimi, sono terribili, ma anche estremamente veri. Quindi la guerra spesso è anche una rincorsa alla verità, è un cercare di scavare, perché gli uomini essendo così nudi si presentano nella loro crudezza, nel loro bene e nel male. Io in guerra ho trovato gesti di crudeltà assoluta, ma anche di grandissima generosità.